Vediamo cosa ha fatto Cosimo Volevo dargli una mano ma non c'è bisogno Allora, dice che posso usare la puzza di crickets Eccolo qua, perfetto Vado a cercare i tizi, guarda che roba enorme che c'è Cioè ci sono mostroni enormi Come puzzo di cricosi quindi Zero cazzi Perché mi colpisco? Colpisco il problema, ho il puzzo addosso Ancora per almeno due minuti Che cazzo vogliono? Che ogni tanto mi inseguono Non dovrebbe sentire nessuno la mia puzza Ma, c'è ancora più puzze Ok, uova finite Non mi dovrebbero sentire, perché cazzo? Quello non capisco Robi, Robi Tutti su Ah, me l'ha spaccato dunque queste Uova, 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 uova Sì, è tutto più meglio Larva, larva No, larva non li devo ammazzare però Uova le devo continuare a spaccare Quindi vado e spacco No? Ok, mi posso ributtare addosso a questo Ah, quando diventano rosse vuol dire che è finito l'effetto Non so che questo ho fallito ma vediamo Senti, Robi, ma qua non ci puoi proposta Io te lo voglio dire Mi dai dell'ex perché faccio queste cose? Ma, secondo me, caro il mio amico Non hai capito un cazzo Qua non ci puoi proposta Io che voglio essere stronzo io Non ci puoi sta Sono diventate tutte rosse Facco queste uova e poi mi do Vai, vai Uh, questo, questo Pick up, pick up Perfetto Tra il loot dovrebbe starci almeno altre tre pozze di sta roba Va bene così Mangiamoci le pozze Ok, queste sono due Ah, ho due minuti per schiacciare le uova Ho capito Poi ricomincio da capo Non l'avevo capito sta roba Dai, dai Se le uso in sequenza Non c'è nessuno di roppi coglioni con le ultime tre uova Stavo e ce l'ho fatta Fa la quest Perfetto Questo è fatto Il problema è che mi devo avviare di là Che quanti ne sono arrivati? Io non ho il mucchio a sto sparare Meno del mucchio e ciaone Ok Butta anche qui Dove sarebbe sta sta cosa? Eccolo qui Ecco, ho preso questo tesoro E non ho dovuto nemmeno far troppo fatica Ah Come si aggiungo altri combattenti Quella mi da fastidio Che cazzo l'ha cacato Cosimo schiattato Cosimo è morto Adesso 38 frame Vabbè è morto Sì, sì, ciaone Li porto il trenino Sembra così divertente Il trenino Lalalalalala Zitta le ho Guarda che cazzo mi hanno andato in giro Devevo fare tutto il giro Qui c'è anche gente di livello 11 comunque Questa cosa è bui quando cambia il livello Che faccio così quasi Ne approfitto Questo sta a me la Dai, ho muovito la mano Un'altra cosa figa è che danno loot Anche se non li hai ammazzati Trebbe essere una stronzata Se la gente ne approfitta Ma una figata Se gioca da bene C'è una cassetta alle poste A queste parti, sì Andiamo a vedere che posta c'è prima Andiamo a buttare Non mi pare proprio Ah, prima lui E tizio Questo è quello nuovo Carino Pigiamino Schifo, che schifo Andiamo a questa Andiamo a spiegare la orfina qui Professore Poi la professoressa Sì, l'ho trovato ed era morto Che siamo sicuri Questo è un parolone Ah, dai Standard issue shield Però potremmo fare per esempio Della carne 20 e 1 più 30 Ne faccio 1 più 30 Solo per skillarlo Cuciniamo Un'altra Diventare piena Allora, posso fare Compara 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 Ok Compara Compara Meglio Ora metto sti due Cuciniamo Sa pietà Ok, ora Potrei prendere la mount E andare a trovare altri Soggettoni Il craft è il craft Troppo Sembra troppo Non approfittare di ste offerte Nessuno mi ha seguito Via Mount di nuovo Nuova zona Psss Borsa Frammento di borsa Eccolo qui Solo per la carne L'ho fatta Qua non è tra l'altro Alt'è il ponte Dove mi sono anduto Così a far massacrare Da chiunque Borsa Vieni tutto E quindi Eh, sotto Fa niente La piantina Sti cazzi No, no Le tartuole hanno provato In seguirmi Che boomer Dimmi un po' Che dobbiamo fa' Che c'hanno sti pesci Sure why not Non lo so però Sto qua Non dov'are Ce n'è per tutti Yumi Sto seduto Qui al fiume Culo blu Ha troppato Che culo Altro che abbiamo Ok posso parlare Con sto Fisherman De merda Fisherman Allora piglio La mount Che balli Non lo so però va bene Increase defense Increase damage Qui sono sotto Alte due quest Ah di qua Guarda qua dove stava la tipa Spera rimango vicino A Soulpire Perché sono quasi al 100% Allora Sto tornato Young dead Stavolta Che culo Praticamente lavoro per l'università Qui c'è una quest qua sopra Tutto ho visto un unicorno E già qui Io voglio un unicorno Ora cerco su web Come cavalcare un unicorno Ci volesse tutta la giornata Unicorno Fuck the world Unicorno Andiamo un po' Che devo sapere delle mount Quindi non li posso prendere Però qua sotto C'era che c'era un tizio Che voleva una mano Guardate Ah c'è proprio tipo Invisible muro Allora scappo Scendo sotto Ah Questa che vuole Allora come cacchio si Vedi si possono tamare Vedete si possono tamare Maledizione Autotainable Vediamo sta guida va Ok Ragazzi ci sono delle scolle Portiamo a sapere come Ciao Ti voglio tamare Ci sono delle scolle Ah c'ho pure un punto Se il prossimo Che sblocco Ah no questa Fine Più a 12 Sblocco questa Ma Chiedi che c'è una roba Più in alto Tipo queste borsa De merda C'è tipo un mostro Non lo aveva da vedere Prima Borsa Vediamo provo a farlo C'è gente che lo fa Che allora si Cazzo Tu È arrivato giusto per 10 secondi Però Ah di Slayer Sita No Chi ha preso l'unicorno Che dicevo io Non deve essere Difficile Ops Tutto guardiamo là A sto punto Ah questo è 6 Prima voglio andare da questa Bex 28 Nel frattempo Il gigantone Ma quanta roba Oh fichissimo Subito subito Iniziamo a indossare cose Ciao gente Sono uguali Oddio Critica lì Sono molto più bella Tanto il culo di aver tratto Sto mostrone So che lo pagherò Sto affangio Secondo di tutto mio Infatti non ci sto a capire un cazzo Troviamo un altro posto per la borsa Proviamo notando Ah sto tizio come lo trovo Eccolo L'ho guardato della merda Sostanzialmente Però vabbè Due scaffi ho preso una pozza Meglio di così Difficile E anche quest'altra cosa Che praticamente La roba non è item level La puoi prendere E poi Quanto dura dura Certo Il crafting Quindi il gathering Un po' ti porta Vedi al tempo Sì va bene Quindi Vabbè Nè casa per te quella Sticca sul farming va Per fare i milioni di pozze Pianni siete Ora anche ad aiutare Se aspetti due secondi Vedo l'ho mangiato ancora C'erano ancora Bisogni di sti cibi Carlo Farmland Carlo Dici Sei deciso Questa ciao Sì è il favorito schifo Grazie Ciao Guarda questo tizio poi Vero Guardate ci stanno Dei tizi con cui parlare Tipo uno che mi fa Il mio scudo recente Va bene Mi mandi a morire A vedere che cazzo vogliono Questo Ah c'è ancora Uno che mi vuole darlo A questo A lui Pirlo Lo stesso miglia a pirla Bevo nel frattempo Ok Deve si preoccupare Dei fantasmi E questo No Continuo a premere Per rispondere Questo è terribile Ovviamente Si lavora gratis Dai su Ringrazio che faccio Ste robe Spacco gli animali Le cose Cioè Se è data questa No Chiaro abbiamo anche Questa qui Di questo A questo punto Inizierei a usare Perché dobbiamo fare queste Tipo Ah non c'è la solpare Qualcosa per Per viaggiare No Maia con se Cosa è la scarsità Raccolgo Maia non fa L'abbiamo iniziata Alla grampo Ti ho confesso Non capisco perché Passiamo un po' alla grampo Ah perché non ci sono Capito Qui ci deve essere Altra busta Vero Bustino Cassettino Qualcosa Eccolo Allora torniamo a combattere I ghosts Allora vai 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 In sequenza In sequenza In sequenza In sequenza Solo a strike Faccio così Non dovrebbe rimanere Nessuno A questo lo saprete Solo alla prossima puntata Ciao